Siamo con Claudio Rinaldi, Team Pro Goldbet, e vogliamo parlare con lui di una variante del poker, che è quella dell'OMA High Low, perché Claudio ha giocato un evento braccialitato da 3.000 qui alle World Series. Puoi spogliarci questa variante? Sì, una variante che devo dire che trovo anche molti appassionati, tanti mi dicono che gli piace la tipologia di gioco, magari inizialmente non riescono bene a capire tutte le dinamiche, i meccanismi, insomma, è un gioco dove il piatto si divide in due, il punto low e il punto high. Il punto low non c'è sempre, devono esserci tre carte sotto l'otto diverse sul board, perché ci sia una qualifica del punto low, e quindi bisogna sempre tenere in considerazione questo, potuto di giocare per poter vincere in tre ambi piatti, sia il piatto low che il piatto high. E questo è uno degli errori principali che fanno gli amatori, o comunque chi si approccia inizialmente, magari anche giocatori forti nel non-limit holdem, si approcciano all'OMA e low e sbagliano proprio questo fondamentale, sempre tenere conto di poter vincere in tre ambi piatti, se no si gioca per metà dei soldi che sono nel piatto. Ho capito, per me è una novità e a questo punto vi faccio una domanda, come ci si prepara per giocare a un trono del genere? Ci sono dei testi specifici, dei supporti magari anche online a cui ci si può rivolgere, dei coaching? Sì, sicuramente sono i soliti libri di testo che spiegano un po' le basi del gioco, e ovviamente vanno un po' integrate con l'esperienza e con il numero di mani giocate di questa speciale disciplina. Ecco, io magari durante l'anno non gioco molto, soprattutto adesso che magari online non c'è più molto movimento su questo tipo di gioco, e quindi magari ho poche mani nel bagaglio e forse non sono, è un po' tra virgolette una gamblata per me giocare a un torneo del genere, anche se ci ho giocato parecchio, ho fatto diverse mani, però magari sei un po' rugginito perché non ci giochi magari da un anno e quindi soprattutto nelle fasi iniziali devi cercare di riprendere i ritmi e le varie starting end con cui poter entrare in gioco. Bisogna riscaldarsi. Come ti sei trovato a confrontarti con i giocatori statunitensi che comunque hanno la possibilità di praticare con maggior frequenza questo tipo di disciplina? Sì, soprattutto qui a Vegas, i giocatori residenti a Vegas e comunque dei regulari delle partite cash live, spesso si parla di partite mixed game dove lo Milo è uno dei giochi più praticati al di là dei giochi classici e soprattutto con gli americani è un pochino più difficile, ho avuto al tavolo anche giocatori europei e devo dire che effettivamente i giocatori europei perdono qualcosa rispetto agli americani, proprio per questo tipo di idea, nel senso che loro magari lo giocano due, tre, quattro volte al mese, quindi magari ogni mese giocano mille, cinquecento, mille mani in Dio e Milo, mentre io magari nell'arcordano non ne ho giocate, quindi questo è un bel vantaggio per gli americani. Allora, riassumendo, uno dei suggerimenti è giocare per entrambi i piatti, quello high e quello low. E poi un'altra cosa a cui non si può, irrinunciabile, diciamo, di chi si approccia a questa variante? Beh, quando si selezionano magari le starting end, anche già da prima, sempre valutare la propria starting end per la possibilità di vincere sia il piatto high che il piatto low, non soltanto dopo che è sceso il flop, ma anche già prima del flop. Quindi non sopravvalutare magari le mani che ti danno sì buone possibilità di vincere il low, però quasi nessuna possibilità per vincere l'high. Allora, noi ringraziamo Claudio Rinaldi e a questo punto arrivederci presto. Arrivederci. Grazie.